buongiorno buongiorno dal dottor claudio saracino da benessere ipnosi soluzione l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola oggi rispondo ad un signore di belgrado ex jugoslavia che mi fa questa domanda dottore mio figlio si fa si fa influenzare dagli amici e non so come aiutarlo perché non vuole aiuti non vuole consigli cosa posso fare con l'ipnosi dcs vera e professionale con la v maiuscola unica al mondo ed ecco la mia risposta esiste un capolavoro un audi mp13s dal titolo no amici no parenti che a zero annulla le critiche le manipolazioni i condizionamenti di amici aggiungo anche di parenti negativi e che funziona anche per tuo figlio che magari non vuole o non può essere aiutato se segui le istruzioni molto facile alla prova di un nonno alla prova di un idiota alla prova di un pigro ti posso garantire che funziona 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 che cosa succede che nel nostro subconscio ci sono delle convinzioni dei pattern dice qualcuno degli schemi un'educazione per la quale tutto ciò che ci dicono dall'esterno ci influenza ci condiziona per cui noi siamo ciò che gli altri sono se c'è un amico un parente qualcuno che ci bisbiglia all'orecchio delle convinzioni le sue convinzioni 99,9 per cento possono diventare le nostre molti chiamano queste persone deboli suggestionabili e questo è vero in parte perché se tu sei suggestionabile a fin di bene per essere più forte più sicuro perché no il punto è che molti manipolano condizionano come fa la pubblicità poi d'altronde elementi degli esseri umani a gusto e consumo non tuo ma degli altri per cui se tu o uno dei tuoi cari come tuo figlio in questo caso avete questo problema di essere tirati come si suol dire da amici e non sentire i genitori non sentire i parenti che vogliono bene al primo figlio bene scaricati da qualsiasi parte del mondo in cui abiti quest'audio mp3 dicesse dal titolo no amici no parenti segui le istruzioni molto facile la prova di un nonno la prova di un idiota la prova di un pigro e meravigliati del potere della mente di tuo figlio o della tua se il tuo caso ok è veramente qualcosa di incredibilmente naturale trasparente parole comprensibili semplici senza nessun effetto collaterale però parole dicesse create ad arte ad hoc con quasi un secolo di un antico sapere che provengono direttamente da los angeles baby reels due grandi artisti dell'ipnosi vera professionale con la v maiuscola il professore dottor michel angel garai e la dottoressa rina brunini di los angeles baby reels miei maestri miei mentori miei associati miei amici per l'eternità ok se tu vedi gli altri video che ho fatto noterai oppure leggi il libro che trovi su amazon noterai che anch'io direttamente direttamente ne ho usufruito e anche adesso da più di 12 anni dal 2008 ad oggi mi ipnotizzo h24 perché lo faccio perché il metodo dices l'ipnosi dices unica al mondo è unica perché non ti ruba tempo non ti stressa non ti obbliga a mettere gli auricolari non chiede la tua volontà non chiede il tuo permesso funziona anche per chi non può non vuole per che cosa vuoi più c'è un'antica pubblicità una vecchia pubblicità che recita vuoi anche un caffè ok aspetto le tue domande anche le più banali ti risponderò gratis compatibilmente ai miei tempi e miei impegni visite il mio sito internet www.ipnolegiassociati.com la mia fanpage su facebook ipnosi autipnosi del dottor claudio saracino iscriviti gentilmente su questo canale youtube benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor claudio saracino e fai share condividi con amici e parenti perché può essere quel quid quella molla che gli può cambiare la vita e seguimi sugli altri social instagram e twitter benessere ipnosi soluzioni dicesse del dottor claudio saracino un bacio un abbraccio amico mia amica mia dal dottor claudio saracino e finisco concludo con una massima di carle jung per alcuni carle young rendi cosciente il tuo subcosciente altrimenti sarà il tuo inconscio il tuo subconscio camolo come vuoi a guidare la tua vita e tu lo chiamerai destino perché guarda che bellissima frase quindi da te parte tutto da qua dentro ci sono le cause le soluzioni a tutta la mente alla corpo al corpo alla tua vita visibile invisibile che tu ci credo no e che i mister bla bla i signori bla bla ti dicono di sì oppure di no o mister impossible esisteva un fumetto mister impossible oppure mister no come li definisco io una cerchia di questi guru internazionali un bacio un abbraccio dal dottor claudio saracino alla prossima ciao alla tua ciao a tutti